Grazie a voi per l'invito. Per un momento storico nel quale non si vive solo di brand, quindi avere un buon brand è un gran vantaggio ma va confermato, difeso ogni giorno e è un periodo veramente molto intenso e difficile. Non si vive di renda di posizione, nemmeno se ci si chiama Confindustria. E questo, sa che lei introduce la trasmissione già con questo piglio, come posso dire, sa che io ho paura che alla fine della trasmissione mi abbia rubato il mestiere, perché ho capito che ha veramente, me ne incolgo subito che ha i tempi televisivi. Grazie, grazie molto. Direttore, lei ci è venuta a trovare. Magliene incogli perché becca la domanda invasiva di rito. Lei da che tipo di famiglia viene, cosa facevano i suoi genitori e dove? Io sono livornese, sono nato nel 60, splendida città di mare, mia madre ancora è in vita, fa la casalinga, mio padre era dipendente di un'impresa manifatturiera importante a Livorno. Purtroppo è mancato alle soglie del 2000. E come è cominciata questa sua esperienza nel mondo industriale? La mia prima esperienza, allora io ho sempre lavorato al servizio delle imprese, me ne faccio un vanto, devo essere franco, la mia prima esperienza lavorativa importante è venuta a Livorno, come vice direttore di ConfCommercio Livorno, nell'88. Sono rimasto in ConfCommercio Livorno fino al 96, dopo che nel frattempo ho diventato direttore. Quindi ho cominciato al servizio degli imprenditori commerciali, turistici e dei servizi. Quindi è un'esperienza molto particolare e anche molto significativa. Direttore, senta, noi abbiamo, siamo provvisti di qualche foto che riguarda iniziative, cose che succedono in Confindustria Ravenna, io direi cominciamo a scorrere assieme, così vediamo, poi parliamo, se ce lo consento, anche di temi più vasti. Certo. Qui il nostro pubblico sta guardando, sta vedendo questa foto, dove siamo? Qui siamo al teatro al ridotto, mi perdono, al teatro a Lighieri, quest'anno, anzi 2012, perché nel frattempo siamo nel 2013. Quello sulla sinistra è Tyler Cohen, economista americano, al centro Alberto Folli, Stefano Folli e Alberto Mingardi. È una delle iniziative che rientrano nel ciclo Ravenna 2030, Futura Adesso, un ciclo di iniziative che è partito dal 2008 in avanti e vuole essere il contributo della nostra organizzazione a una riflessione sull'evoluzione dei tempi, dove va il mondo, come sta cambiando l'economia, un contributo da parte della classe dirigente, quale Confindustria è, a una riflessione, come dire, su temi di grande rilievo. Devo dire che siamo stati molto un giro mirante nel lanciare l'iniziativa, perché è stata pensata nel 2008, avviata nel 2009, quando, chiamiamola crisi, il cambiamento è nato, era appena agli albori. Credo che sia stato un piccolo punto di merito, piccolo barra grande punto di merito, aver pensato che dovevamo offrire alla città, al territorio, alle altre forze sociali, istituzionali, il nostro contributo. Che è stato fatto di una serie di iniziative, credo che vedremo anche altre foto, di una serie di iniziative volte fondamentalmente a fare flette, una specie di elettroshock volto a dare spunti di riflessione ai nostri imprenditori, a noi stessi e quant'altro. Direttore, da quanto tempo è in Romagna lei? Io sono in Romagna, lavorativamente dal 2000, sono stato otto anni in pubblica amministrazione, dirigente di ruolo, uno dei pochi, credo, in Italia, di aver fatto poi la scelta di uscirne, perché dall'agosto 2008 sono appunto direttore generale Confindustria Ravenna. Quindi da pubblico sono tornato nei privati. Come ha trovato Ravenna e più in generale la Romagna, con quell'occhio, uso questo aggettivo, mi viene caustico, toscano, critico, simpaticamente in grado di mettere in luce gli aspetti diversi del mondo? Guardi, io ho lasciato Livorno nel 1996 con una scelta cosciente, consapevole, perché ero convinto che l'Appennino rappresentasse uno spartiacque fra due diverse Italie. Non ho simpatie leghiste, quindi non diamo questo tipo di coloritura, però avevo l'impressione che l'Appennino rappresentasse lo spartiacque fra un'Italia che funzionava e un'Italia un po' più approssimativa. Io mi sono trasferito a Bologna nel 1996 per eseguire un progetto molto importante, tuttora abito a Bologna, devo dire che quelle che erano le mie impressioni si sono ampiamente confermate. Questo è un altro mondo. Poi ogni medaglia... Cioè è un altro mondo in che senso? Molto più efficiente, molto più organizzato, molto più, mi verrebbe da dire, imprenditoriale. Anche un lavoratore dipendente ha una mentalità molto più imprenditoriale di quella che si può trovare al di sotto dell'Appennino. Ah, senta, molto interessante. Vediamo un'altra foto. Questa è la premazione della nostra sezione femminile, la sezione rosa di Excelsa, un'iniziativa che abbiamo lanciato nel 2011, che quindi nel 2012 ha visto la sua seconda edizione, volta a puntare i riflettori sulle imprese di eccellenza del nostro territorio. Rientra anche quella nell'ambito della venda 2030, quello che dicevo prima, non vuole essere un premio, non ci interessa premiare, non ci interessa scoprire il migliore, ci interessa mettere sotto i riflettori le eccellenze, e sono molte, imprenditoriali che esistono nel nostro territorio. Spesso non sono note, non sono conosciute, spesso neppure le istituzioni, sicuramente non al grande pubblico, e invece sono dei piccoli bar a grandi tesori che bisogna appunto enfatizzare, soprattutto nel momento difficile e complicato come questo. Perché me lo lascio dire, uno dei concetti di cui sono assolutamente convinto, è l'impresa, quella che crea ricchezza. Se non ci fosse l'impresa sarebbe decisamente peggio per tutti. Credo che lei abbia ragionato, tra l'altro, le devo dire, ci sono alcuni aspetti della sua bergografia che ricordano la mia, che è molto meno autorevole, però devo dire, io come lei ho sempre esclusivamente lavorato a favore dell'impresa, e quindi so perfettamente che senza l'impresa non c'è volante ricchezza, non c'è nemmeno benessere, non c'è spazio neanche per altre tante espressioni che sono altrettanto importanti, tipo la cultura, la socialità, ma senza l'impresa. Questo non è possibile. Lei parlava prima di imprese eccellenti al femminile, c'è una dimensione standard dell'eccellenza, direttore? Oppure si può essere eccellente essendo una piccola impresa, quanto una impresa grande in questo momento particolare? Quello che rende eccellenti è il motore che si ha dentro, la voglia di intraprendere, la voglia di non sentirsi arrivare, la voglia di essere disposti a credere che ogni giorno che spunta il suolo ha una sfida da vincere. E quindi si può essere eccellenti, può essere eccellente una start-up, può essere eccellente un'impresa media, può essere eccellente una grande impresa. L'importante è appunto come vibrano i pistoni che si hanno dentro, se c'è voglia di fare, se c'è voglia di competere, se non ci si sente arrivati, si è eccellente. Quando si pensa di essere arrivati al traguardo è all'inizio della fine. Diamo un'altra foto. Oh, questa è l'Assemblea 2012, al centro abbiamo il nostro Presidente, il Dottor Guido Ottolenghi, il Ministro Passera e il Presidente di Confindustria, il Presidente nazionale, Giorgio Squinzi. Anche lui è eletto nel maggio 2012, quindi è stata un'occasione veramente molto importante perché il Presidente Ottolenghi è stato eletto nel 2011, quindi era la sua prima Assemblea da Presidente eletto. Abbiamo avuto due ospiti veramente molto, molto, molto importanti e devo dire che credo sarei ricordato come un'Assemblea di assoluto livello, anche perché in quella circostanza in qualche modo il Ministro Passera ha annunciato che c'erano disponibili i famosi 60, 80 milioni, vedremo alla fine quanti saranno per gli escavi del porto di Ravenna, che è una cosa che a noi sta evidentemente moltissimo a cuore, ma non soltanto nell'interesse della città, crediamo del territorio e della regione tutta. Questo tema di Ravenna del porto e questo tema dell'economia complessiva rovennata, correlata a quella romagnola e territoriale, l'affrontiamo fra un paio di minuti, si è d'accordo direttore, vediamo gli spot di belle aziende romagnole. Lei è stato anche direttore di Confcommercio, quindi lei sa perfettamente quanto le piccole e le medie imprese siano il nucleo della nostra economia, state con noi. Grazie di essere rimasti con noi, con il dottor Marco Chimenti, direttore di Confindustria di Ravenna. Direttore, prima ce l'avamo al porto, a Ravenna ci sono molte attese per tutto quello che potrà succedere attorno allo sviluppo del porto, che è pur già un'entità formidabile. È veramente la chiave di volta dell'economia rovennata e allo sviluppo del porto. Io ovviamente le rispondo di sì con una correzione, spero che non sia la chiave di volta solo dell'economia rovennata, ma che sia la chiave di volta dell'economia romagnola e mi piacerebbe sperare dell'intera regione. Io sono livornese, quindi so benissimo che la parte migliaia della nostra regione guarda più a Livorno come porto che non a Ravenna, sarei falso ed ingenuo, non lo dicesse. Però questo è qualcosa sul quale dobbiamo lavorare, soprattutto per far guardare come opportunità anche Ravenna. È chiaro che alcune cose non si cambiano, la geografia non si cambiano, i mari non si cambiano, però fino a questo momento sono sentiti un po' soli, non ho problemi a dirlo in questo sforzo, dobbiamo essere forti, determinati nel far capire che Ravenna, il porto, non è solo il porto di Ravenna, ma il porto, ripeto, da una più vasta tendenzialmente della regione. E di un territorio che per certi versi va anche oltre la regione. Non crede, direttore, che perché il porto di Ravenna assuma questa importanza strategica? Lo dico perché sembrerebbe la mia una domanda a tesi, invece sono anch'io convinto che sia così, cioè che il porto occorre che cambi radicalmente, che è la logistica che accompagna per esempio a Ravenna, insomma, i collegamenti, insomma, bisogna che ci muoviamo un po'. Bisogna che ci muoviamo, che ci muoviamo tutti insieme, io spero che in questo suo appello a muoversi includa anche le istituzioni, perché poi noi associazione abbiamo un ruolo molto importante, che è quello fondamentalmente di tirare la giacca, di richiamare l'attenzione, ma il potere decisionale c'erano appunto le istituzioni, c'erà la pubblica amministrazione, ed è a loro che fondamentalmente rivolgiamo l'appello di guardare, dal presidente Rane, c'erano di guardare con attenzione crescente verso il porto di Ravenna, non come il porto di Ravenna, ma il porto appunto un'area più vasta che magari è l'intero nord-est, eccetera, eccetera. A proposito di chi ci mette cosa, mi viene in mente che gli ospiti che ci fanno un ruolo venireci a trovare a Salotto Blu, spesso sono importanti personalità della politica e delle istituzioni. Adesso mi riferisco a Ravenna, per essere più vicino alle sue abitudini quotidiane, penso all'onorevole Albonetti, al senatore Mercatale, al vostro stesso sindaco, eccolo là. Esatto, al vostro stesso sindaco, ma recentemente ci sono venuti a trovare il presidente del CMC, che è un importantissimo, una struttura di natura privatistica, cooperativa, ma che ha una tale importanza strategica, un territorio di Ravenna. Molti parlano di possibilità di sinergie tra pubblico e privato nelle relazioni di strutture, il project financing che noi conosciamo, diciamo in italiano, ma ci sono gli imprenditori disponibili a questo tipo di esperienza, direttore, secondo la sua esperienza. Mi verrebbe da dire che se il business c'è, ci sono anche gli imprenditori, non conosco un imprenditore che non sia interessato ad un buon affare, evidentemente. È chiaro che in questi casi ci deve essere un equilibrio di interessi e io credo che, come dire, in futuro, essendo delle risorse pubbliche inevitabilmente, inevitabilmente calanti, il futuro passa da lì, passa da una sinergia, come vogliamo chiamarla, tra pubblico e privato. Chiaramente ci deve essere un adeguato equilibrio tra interessi pubblici ed interessi privati. A quel punto le cose si possono fare. C'è un po' da rodare questo meccanismo, ma credo che la strada segnata sia quella. Le istituzioni pubbliche, sto parlando non della politica, dell'istituzione per quanto sia una stretta correlazione fra stazione pubblica e politica. Puoi figurarsi, siamo in un periodo di par condicio, direttore, ma figurarsi che possiamo... Ma secondo lei le istituzioni pubbliche, non mi riferisco solo a quelle ravennate, hanno capito bene qual è il momento di difficoltà dell'imprenditore e di che cosa le imprese hanno bisogno per ritrovare energia? Guardi, credo che questa sia la domanda, quella di maiuscola, nel senso che quello che stiamo vivendo è probabilmente una fase epocale di cambiamento, i cui esiti effettivi saranno letti da nostri nipoti sui libri di storia. Della serie, come va a finire, non possiamo immaginarlo. Dipende molto dalle scelte che saranno fatte, dal coraggio che sarà la base di queste scelte, ma fai scelte coraggiose se sei capace di leggere quello che sta accadendo. Io credo che ci sia un descritto deficit trasversale nella classe dirigente, quindi non soltanto nella politica, nelle istituzioni, ma anche nell'associazione, nel sindacato, eccetera, nel capire la portata di quello che sta avvenendo. Devo dire che ci fu qualcuno che già nell'autunno 2008 aveva intuito che quello che stava accadendo era una cosa non banale, non congiunturale, ma che attaccava i pilastri stessi del sistema. Una minoranza che è stata attacciata ad essere in enagrama, una minoranza che è stata quasi tacitata, ma che dopo 4-5 anni, dobbiamo dire, aveva assolutamente ragione. Il mondo uscirà, e non è uno slogan, il mondo uscirà molto diverso da questo cambiamento, io doniamo la parola crisi, rispetto a quando è iniziata questa fase di cambiamento. Che cosa sarà? Non dico dell'Italia, non dico della provincia di Ravenna, non dico dell'Italia, ma del mondo occidentale. Quindi se il mondo occidentale, se l'Occidente riuscirà a confermare, oppure no, il suo ruolo di guida, di locomotiva del mondo, della sua economia, non sta scritto, che sia per forza così, dipenderà da quanto saremo capaci di stare di fronte a questo cambiamento. In questo evidentemente la classe dirigente ha un ruolo fondamentale, e all'interno della classe dirigente ha un ruolo fondamentale, come dicevo prima, ce l'ha chi è nella stanza dei bottoni. Noi abbiamo un ruolo importante, come ha visto, mi sono incluso nella classe dirigente, perché non voglio, come dire, spogliarmi di responsabilità, ma bisogna essere anche lucido e consapevole che alla fine la decisione riprende qualcun altro, questo qualcun altro sta nell'istituzione a tutti i livelli. Direttore, mi verrebbe da chiederle, vista la sua esperienza diversificata nel mondo dell'associazionismo di impresa, quanto abbiano anche da dare, da dire, da fare, eventualmente da cambiare le associazioni di impresa. Ma se lei me lo consente, direttore, ci fa una grande cortesia, siccome siamo agli sgocci della nostra trasmissione, posso chiedere di tornare a trovarci domani sera? Come faccio a dirle di no? Volentieri. Io la ringrazio anticipatamente. Allora, riprendiamo questi temi e tanti altri domani sera. Sapete che andiamo in onda tutte le sere a 23.30, il canale è il 12 del vostro digitale terrestre ed è Videoregione. Ci vediamo domani sera di nuovo con il dottor Chimenti, in cui c'è un indirizzo di posta elettronica, russomanomare, 54chiosolegmail.com per i suggerimenti e critiche. Sapete che vi rispondo personalmente, soprattutto le critiche sono sempre molto interessanti. Continuate a farlo. Ci vediamo domani sera a 23.30. Grazie.